It's all emotion, no stopping now, I've got nothing to use, and only one way of, it's all smooth, and from here on out, yeah! Citroën DS3, con nuovi fari Xeno Full LED. Tu ha da 149 euro al mese con Formula Free Drive, e dopo due anni sei libero di sostituirla.